Bentornati su Mandorlice, il mio benvenuto su il nostro primo incontro. Mi presento, sono Stefania, molto piacere. Oggi vi propongo un'altra ricetta estiva, super rinfrescante e molto amata nel sudest asiatico in tutte le sue borne. Sto parlando dell'insalata al mango. Bando alle ciance, si parte. Scegliamo un mango acerbo. La particolarità di questa insalata sta proprio in questo. Andiamo a cercare la croccantezza del frutto. Peliamolo e per tagliare il mango la julienne, mi sono aiutata con un pela patate dalla lama multipla, scegliendo quella più adatta. Creiamo delle strisce sottili e con mia sorpresa ho scoperto che il mango non era così acerbo come sembrava. Doveva essere completamente verde. Nessun problema. Si prosegue e continuiamo a tagliare fino a raggiungere il cuore. Aggiungiamo una carota, anche questa tagliata alla julienne, e un trucco favoloso per renderle ancora più croccanti è di immergerle in acqua ghiacciata per 30 secondi, massimo un minuto. Scoliamo e aggiungiamo una cipolla e un po' di erbe aromatiche. Io ho optato per del basilico tailandese, del basilico rosso e della menta. Avrei aggiunto volentieri anche del coriandolo fresco, quello che sta un po' in cimice per intenderci. Se non le trovate non sono necessarie tutte queste erbe aromatiche, l'unica indispensabile a mio parere è la menta. Basta anche solo quella, della varietà che trovate. Sminuzziamole e aggiungiamole la nostra insalata estiva. Mescoliamo per cominciare ad amalgamare i sapori e prepariamo la salsa per dare un'anima alla nostra insalata al mango. Oggi sarà vietnamita. Abbiamo bisogno di un cucchiaio di acqua tiepida, in modo che sciolga il cucchiaio di zucchero di canna. Un cucchiaio di salsa di calamaro. Esiste in commercio la versione vegana con un sapore molto simile. In alternativa va bene anche la salsa di soia. Mezzo lime. Infine aglio e peperoncino sminuzzati. Sentitevi liberi di aggiustare le dosi in base ai vostri gusti. Nel mio caso ho spremuto un altro spicchio di lime e aggiunto un altro cucchiaio di salsa di calamaro. Mescoliamo molto bene e non preoccupatevi. La mia salsa sembra molto piccante ma è tutta apparenza. Cercavo solo un po' di rosso, il colore della gioia. Condiamo finalmente l'insalata di mango con la salsa e a questo punto, facoltativo, sistemiamo dei gamberetti sbollentati. Un'alternativa molto gustosa sono delle fettine di tofu scottate in padella o grigliate. Guarniamo con della granella di arachidi tostate e serviamo. Un particolare facoltativo ma che super consiglio è di aggiungere alla fine un po' di cipolle, meglio ancora dello scalogno dorato. Extra guarnizione con della granella di arachidi e perché no qualche foglia di menta fresca. Se in questo periodo estivo state cercando qualcosa di particolare e di fresco, questa insalata al mango è perfetta. Può essere gustata come contorno, accompagnata con delle gallette di riso, utilizzata come farcitura negli involtini vietnamiti, insomma sperimentate, ci sono tantissime idee. Come sempre mi auguro che questo video vi sia piaciuto, grazie per il tuo tempo e alla prossima.